Il Magnifico Fuorilegge Ci sono momenti della storia che con il passare del tempo vengono ammantati da un'aura di leggenda. Ci sono invece leggende che entrano nella storia. Così è accaduto per Tex nell'anno che ha celebrato i suoi 70 anni di carriera. Ed è proprio grazie al meccanismo dei ricordi che spesso apprendiamo un frammento del passato del granitico eroe, risalente a quando non era ancora un ranger, nemmeno che meno aquila della notte, con il suo doppio ruolo di capo e agente indiano dei Navajos. C'è stato un tempo in cui era solo Tex Wheeler, per tutti un fuorilegge, una spina nel fianco per gli sceriffi della frontiera, che da un lato si vedevano costretti a perseguirlo, ma che dall'altro, se onesti, non potevano fare a meno di ammirare quel giovane dai modi spicci, il quale spesso si trasformava in giustiziere. Si riempendo le butille del paese, non per niente abbiamo parlato di modi spicci, però anche togliendo loro bollenti castagne dal fuoco, rivolgendo le sue calorose attenzioni, mai verso gli innocenti, ma agendo sempre e solo nei confronti di coloro i quali sfruttano la povera gente che non è in grado di difendersi da sola, diventando perciò un incubo per bari, ladri ed assassini. Per tutti i diavoli, che mi siano ancora alle costole! Questa è stata la primissima frase pronunciata da Tex nella striscia Il totem misterioso, uscito nel lontano 1948, quando comparve nelle edicole, pronto a conquistare generazioni di appassionati. Ed ora che il mito cavalca ancora, nel presente, come nel passato, Che strano piacere, quando viene nuovamente formata la coppia Tex-Dinamite. Esatto, il bravo e intelligente cavallo che ha accompagnato quel tizione d'inferno da quando era un re del Rodeo, ritorna a galoppare sui sentieri dell'avventura e a essere un personaggio a pieno titolo, un vero compagno di viaggio, del quale si sente la mancanza anche dopo decenni. Tornando indietro a quegli anni tormentati, come a sottolineare la ancora acerba età del protagonista, talvolta le parole del magnifico fuorileggere a Drizzatorti sono intinte in un misto di spavalderia e ironia, che però è perfettamente adatto sia al ruolo che Tex si vede, suo malgrado assegnato, dovendo cavarsela dalla parte sbagliata della barricata, almeno ufficialmente, per quanto mai e poi mai moralmente, sia a quel periodo spericolato in cui si stava facendo le ossa e dal suo fianco non c'erano il burbero esperto e pieno di buonsenso capelli d'argento, il taciturno Tiger Jack o il figlio Kit. Ciò però non toglie che Tex sia già il solito fulmine lubrificato, pronto a rischiare la pelle con caparbia ostinazione, pur di seguire il proprio rigore etico e senza mai intaccare il suo senso dell'onore. Le Colt diventeranno roventi. Ma niente paura. Nonostante agli inizi il futuro Aquila della Notte fosse considerato un bandito, nulla accomuna il solitario pistolero con i veri pendagli da forca, che siano fuggiaschi a tutti gli effetti o che abbiano una qualche carica più o meno ufficiale, nascosti quindi da una maschera di presentabilità. Era finito sugli avvisi d'Italia per aver vendicato prima il vile assassino di suo padre, Ken, ucciso in uno scontro con razziatori facenti parte di una ignobile organizzazione di ladri di bestiame, e poi l'omicidio a sangue freddo del fratello Sam, avvenuto per mano di un bieco individuo che si riteneva intoccabile perfino dalla legge, avendo sul proprio libro paga anche l'indegna stella di Latta Locale. Intoccabile da quel tipo di legge, corrotta e distorta? Forse sì, ma quella di Tex Wheeler è una legge ben diversa, a base di verità e piombo. Tutti la conoscono, ma non tutti hanno il fegato di applicarla. Si chiama giustizia. In ogni caso, non c'è bisogno di dirlo. Tex non spara mai per primo, né mette mano alle sputafuoco senza una ragione più che valida. Restando al suo fianco, incapperete in tagliagole uomini onesti, vigliacchi e coraggiosi, alleati e traditori. Vi dovrete districare tra agguati, duelli, trucchi, voltafaccia, pallottole che fischieranno a neanche un palmo dalla vostra testa, pugni più duri del calcio di un mulo ed un sole, che rischierà di cuocervi le idee se non indosserete il vostro cappello Stetson. Seguendo le tracce sulla pista, vi sorprenderete coinvolti quasi in prima persona. Vi riparerete per non essere un bersaglio troppo facile. Sceglierete se punire o perdonare, se sparare o parlare. Potreste anche arrivare a provare un pizzico di nostalgia causata dalla straordinaria entrata in scena di uomini realmente esistiti, ma al contempo ammantati di leggenda. Emozione sottolineata dalla nascita di più di un'amicizia profonda e virile, basata sul rispetto, lealtà e fiducia reciproca, destinata a durare un'intera vita, un sodalizio indipendente da razza e pregiudizi, un incontro che intreccia la storia vera e propria con il mito. Ma siamo nel West, amigos, e nessuno può dire dove finisce una e incomincia l'altro. Buttate giù l'ultimo goccio di caffè e controllate le vostre sei colpi. In sella.